Il matrimonio è un segno prezioso E' l'icona dell'amore di Dio per noi Questo non significa che l'amore tra i congiugi Deva essere per forza perfetto Nessuno lo è Ma l'amore tra gli sposi è un processo dinamico Che va avanti e migliora nel tempo di una vita intera Per questo il matrimonio richiede la fedeltà Il matrimonio è per sempre Dio è fedele al suo progetto d'amore per noi Si fida e scommette sulle coppie di sposi cristiani Il dono del suo amore rende possibile Il per sempre per due creature fragili, illimitate, ferite Ma create la sua immagine e somiglianza Quindi destinate all'eternità Quell'eternità che è il per sempre di Dio Con il matrimonio si dimostra la sedietà dell'impegno Tra due persone che si amano Non volersi sposare vuol dire Di non voler rendere pubblico l'impegno Avere delle riserve Forse non essere convinti Non essere sicuri Non si sa Questo per sempre è innanzitutto perciò dono E noi come coppia ce ne rendiamo conto Soprattutto quando facciamo fatica Entriamo nella fatica del costruire la nostra relazione d'amore La nostra intimità, il nostro dialogo Allora lì abbiamo l'occasione di vedere L'intervento tangibile della grazia Allora succede che magari uno dei due cuori si ammorbidisce E chiede scusa all'altro Oppure un sorriso Basta a sciogliere magari delle freddezze Che si sono date nelle relazioni A volte succede anche che un figlio Con un suo intervento, una sua battuta Una sua coccola Riesce ad allentare quella tensione Che si era creata Vedi in questo momento la grazia a gente Perché il cammino riparte Riparte la vicinanza Non bisogna avere paura di fallire La paura è il più grande ostacolo Ad accogliere Cristo e il suo progetto di vita La paura è un ostacolo Stati attenti Allora un dialogo attento Fatto di ascolto, condivisione, comunione E anche di silenzi Permette allo spirito di educare le relazioni Di educare il nostro istinto Di educare le nostre emozioni I nostri desideri, i sentimenti E tutto questo permette all'amore di crescere Le nostre piccole e grandi infedeltà quotidiane All'altro, alla nostra onore di coppia Ci rivelano molto chiaramente di che pasta siamo fatti E di come sia illusorio La possibilità che noi due Riusciamo a costruire qualcosa che sia per sempre Qualcosa che non abbia fine È per questo che abbiamo la necessità Di lasciarci modellare dalla grazia di Dio La Chiesa ha tanto bisogno Nella coraggiosa fedeltà Degli esposti alla grazia del sacramento È necessario che ogni coppia testimoni La bellezza del matrimonio cristiano Anche con le difficoltà E le sfide di ogni giorno Per noi famiglia è Bellezza di vita